La convince Sileri? No, guardi, io non sono assolutamente convinta, mentre io, poi se te lese magari lascia parlare, mentre io sono assolutamente convinta, e lo ripeto, che il vaccino è fondamentale, ma non è l'unica cosa per poter sconfiggere questo virus. E' inutile che ci abbiano questo governo venduto il vaccino come la soluzione unica, quasi miracolosa, da far sì che diventasse quasi ideologica, religiosa, e ha creato una grande contrapposizione che fa male alla nostra nazione. Io non credo in questo Green Pass, Super Green Pass, Super Green Pass quarto, perché non si è ancora capito il Green Pass base, ho fatto prima delle domande normali. Io dico al sottosegretario Sileri che ci vorrebbe semplicemente un po' di buonsenso, un po' di trasparenza, non un po', ci vorrebbe la trasparenza nella comunicazione, dire le cose vere agli italiani perché hanno dimostrato di essere un popolo straordinario. Abbiamo uno dei tassi di vaccinazione più alto d'Europa e ci avevate detto che prima l'immunità di Greggio è all'80%, poi al 90%, poi ci avete detto che è finita l'immunità di Greggio e non esiste. Io prego che abbiate il coraggio di dirci la verità e di non trattare gli italiani in questa maniera, perché quando Giletti le dice sulla metropolitana o sui treni regionali, capisce che lì casca l'asino.